Oltre 100.000 euro, questa la cifra impegnata dall'amministrazione comunale di Capannori per sostenere il reddito delle fasce deboli e delle famiglie che, a causa di questo particolare momento storico, stanno per la prima volta faticando a sbarcare il lunario ogni mese. Nello specifico, tre i fondi istituiti. Un fondo di 20.000 euro che prevede il rimborso del pagamento della TIA delle rette e dei servizi scolastici per un periodo di tre mesi per i disoccupati o cassa integrati, con un reddito familiare lordo per l'anno in corso inferiore ai 26.000 euro. Un fondo straordinario di 40.000 euro per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti e assimilati. Infine, un fondo di solidarietà di 50.000 euro per l'erogazione di contributi individuali a specifiche categorie di contribuenti, quali pensionati e giovani coppie. Hanno diritto ad un contributo di 150 euro i pensionati oltre a 60 anni che hanno percepito un reddito certificato in base all'ISE nell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta non superiore a 10.600 euro se il nucleo è composto da una persona e non superiore a 8.240 euro se il nucleo è composto da due o più persone, a condizione che abbiano regolarmente versato l'IMU nell'anno 2012 e siano proprietari di un'unica unità immobiliare. Hanno invece diritto ad un contributo di 100 euro i pensionati oltre a 60 anni con ISE non superiore a 17.100 euro se il nucleo è composto da una persona e non superiore a 12.440 euro se il nucleo è composto da due o più persone. È previsto infine un contributo di 150 euro per le giovani coppie che hanno contratto mutuo per l'acquisto di prima casa nel 2011 o nell'anno in corso. Grazie